Buongiorno a tutti, oggi vi facciamo vedere come si fa la nostra schiacciata Voi la chiamate la focaccina, tante cose Perché a Firenze questa l'è la schiacciata Ho messo gli ingredienti qui sul tavolo per farveli vedere Si parte con un chilo di farina, vedete? E la butto nella pentolina 600 ml di acqua Si prosegue con 50 grammi di sale Poi mettiamo l'olio, vedete il colore non è, è toscano O via, se tu ci metti la roba buona la si ritrova Se no, si mangi che c'è Proseguendo con le dosi che vi ho dato Ora si passa il lievito Voi a casa mettete 50 grammi di lievito Io ci metto il mio, quello che avevo sempre detto Adoppiamo il lievito, madre Dopo aver messo il nostro lievito Impastiamo per una decina di minuti Il tutto E via in quella splendida schiacciata, come vi ho detto E via in quella splendida schiacciata, come vi ho detto